internet explorer clicca sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona opzioni internet seleziona la scheda privacy e clicca sul pulsante avanzate bene da questa scheda puoi mettere il segno di spunta sulla sulla casella blocca per i cookie dei siti web visualizzati ed eventualmente anche solo blocca per i soli cookie di terze parti puoi scegliere se accettare lo stesso i cookie di sessione nonostante il blocco i cookie di sessione sono quei cookie che ti mantengono ad esempio logato all'interno di un sito evitandoti di fare il login ogni volta che accedi ad internet finito clicca su ok di nuovo su ok ed è fatta